In Abruzzo il carcere di Teramo, Lanciano e Sulmona con le situazioni più pericolose per sovraffollamento e promiscuità. Lo afferma il segretario generale della UIL, Penitenziari Eugenio Sarno, in una nota con cui denuncia al 31 dicembre 2010 un indice di sovraffollamento medio del 30,5%. La presenza di 460 detenuti in più rispetto alla capacità ricettiva massima degli istituti di pena abruzzesi rilevata al 31 dicembre a Fermasarno è la fotografia più nitida dell'universo carcere e dell'anno che si è lasciato alle spalle, connotato da proteste, morte e violenza. Oggi il nostro intento è solo quello di dare i numeri che nella loro spietata freddezza possono valere più di qualsiasi commento. I dati diffusi dalla UIL indicano la presenza, a fine 2010, di 1.967 detenuti, Maglia Nera per sovraffollamento a Lanciano 89,5%, seguito da Teramo 73,2% e Chieti con il 69,9%. Gli istituti non sovraffollati o con saldo negativo rispetto alle capienze regolamentari risultano essere Pescara ed Avezzano. Ma spiega Sarno, quest'ultimo è ancora in fase di riorganizzazione operativa dopo la recente riapertura. I suicidi in Cella sono stati 4, 2 a Sulmona, 1 all'Aquila e 1 a Teramo, prosegue il segretario generale del sindacato. In tutti gli istituti, tranne Avezzano, si sono verificati almeno due tentati suicidi per un totale complessivo pari a 43. 18 a Teramo, 14 a Sulmona, 6 all'Aquila, 2 a Lanciano, 1 a Chieti, Pescara e Vasto. I detenuti salvati in extremis dal suicidio da parte della Polizia Penitenziaria sono stati invece 16. Gli atti di autolesionismo ammontano a 235 messi in atto in 7 diversi istituti. I detenuti, che hanno fatto ricorso a scioperi della fame, sono risultati essere 341. Gli atti di aggressione perpetrati in danno di poliziotti penitenziari ammontano a 11, 4 a Teramo, 3 a Sulmona, 2 a Lanciano, 1 all'Aquila e 1 a Basso. Occorrono urgentemente, spiega Eugenio Sarno, investimenti in mezzi, organici e risorse perché si possa ridare fiato al sistema. Purtroppo non scorgiamo alcun segnale in tal senso, soprattutto in tema di personale, la situazione dopo la riepertura di Avezzano è ancora più drammatica attualità. Per l'amministrazione, gli organici del personale di Polizia Penitenziaria e Regione sarebbero al completo. Noi contestiamo questi dati, confidando sulla certezza dei numeri. L'organico complessivo regionale è fissato in 1.604, per i soli servizi interni agli istituti sarebbero previste 1.466 unità, invece ve ne sono solo 1.338 e 79 sono le unità impiegate in altre strutture non operative, come il provveditorato e gli uffici per l'esecuzione penale esterna.